Per attivare l'account studente dobbiamo andare sul sito iciloriaecastellodigodego.edu.it dal menu scegliere risorse e poi gmail d'istituto digitiamo l'account dello studente quello che vedete qui è un esempio cliccate su avanti poi cliccate sopra password dimenticata cliccate sopra prova un altro metodo riceverete un'email con un codice di verifica all'indirizzo email che è parzialmente nascosto da degli asterischi clicchiamo invia andate a controllare la vostra casella email quella che corrisponde all'indirizzo email parzialmente nascosto vi arriverà un'email simile a questa con un codice a sei cifre lo scrivete nello spazio inserisci codice e cliccate su avanti scegliete una nuova password che verrà utilizzata per effettuare l'accesso con l'account studente una volta che avete scritto la password cliccate su salva password quando aprirà questa schermata cliccate su continua su gmail l'attivazione è completa se non riuscite a ricevere il codice dovete chiedere supporto sul sito di istituto sempre dal menu scegliete supporto e poi richiesta di supporto vediamo come il sito è iciloriacastellodigodigo.edu.it cliccate su supporto e poi sopra richiesta di supporto compilate tutti i campi necessari mettete la spunta sul consenso al trattamento dei dati personali e poi cliccate su invia mi raccomando specificate cosa vi serva